Tornano gli eco-incentivi regionali per chi decide di rottamare la propria vecchia auto per acquistare veicoli elettrici o full ibrid di classe Euro 6. Il governo Schifani ha approvato il decreto predisposto dall'assessore alle infrastrutture e alla mobilità Alessandro Ricò che disciplina modalità e requisiti per ottenere il contributo introdotto dalla legge regionale 9 del 2021. La regione, ha dichiarato il presidente Schifani, sostiene con atti amministrativi concreti la svolta culturale verso modelli ecologicamente virtuosi. Per questo la Giunta ha deciso di riproporre questa misura che è cumulabile con i bonus nazionali di settore. Gli incentivi economici possono agevolare le scelte individuali indirizzandole verso una mobilità sostenibile. Anche attraverso questi contributi si punta a modernizzare il parco mezzi circolante in Sicilia, riducendo il numero di quelli inquinanti e contribuendo a migliorare la qualità dell'aria delle nostre città. Il bonus, spiega l'assessore Ricò, sarà di 5.000 euro per chi acquisterà una nuova auto elettrica e di 2.500 euro per chi opterà per un mezzo ad alimentazione full ibrid di classe Euro 6. Il contributo andrà direttamente ai cittadini residenti in Sicilia proprietari di un veicolo a benzina o gasolio. Con questo nuovo provvedimento anche le associazioni di categoria dei produttori di automobili si sono impegnate ad effettuare uno sconto minimo sul prezzo di listino di 1.000 euro oltre IVA. La proprietà del nuovo mezzo dovrà comunque essere mantenuta per almeno 24 mesi. Le domande per ottenere il contributo regionale potranno essere presentate dalla data di pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale fino al 30 novembre di quest'anno. Le istanze dovranno essere trasmesse via PEC al Dipartimento Infrastrutture della Regione Sicilia, allegando tra l'altro la copia del contratto di acquisto della nuova auto, il certificato di rottamazione, il documento di circolazione del mezzo da rottomare, il documento di identità e la patente dell'acquirente. I contributi saranno erogati fino all'esaurimento delle risorse stanziate nel bilancio 194.000 euro. Per i residenti nelle isole minore e nei comuni montani il contributo è aumentato di 1.000 euro. Le somme saranno assegnate sulla base dell'ordine cronologico di presentazione delle istanze nel rispetto dei requisiti del decreto.